Eccoci, buongiorno, bentornati a Confibre, che parleremo ovviamente della legge di bilancio che verrà, stasera c'è un importante Consiglio dei Ministri, da cui però potrebbe uscire per così dire soltanto la cornice generale che dobbiamo mandare entro oggi alla Commissione europea e poi invece in una successiva riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe esserci la legge di bilancio vero e proprio anche il decreto fiscale che è molto importante e che contiene, come sapete, molte novità, soprattutto per chi segue l'aggiornamento in progress giorno per giorno. Cominciamo però dalla situazione in Siria, perché l'Europa ha condannato Erdogan per l'attacco appunto in Siria e però, c'è un però, l'iniziativa di bloccare la vendita di armi da parte dei singoli paesi, ovviamente tutto questo sui contratti futuri e non su quelli in essere, appare molto debole. Trump intanto ha dato il via libera a una serie di sanzioni nei confronti di Ancara e manderà il Vice Presidente appunto in Turchia per cercare di capire se si può arrivare ad un cessate il fuoco. Tra poco Di Maio parlerà alla Camera un'informativa appunto sulla situazione in Siria, vi facciamo però sentire che cosa ha detto ieri al termine della riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea. Sentiamo Di Maio. È stato un consiglio degli affari esteri molto importante in cui la posizione e la richiesta dell'Italia era un impegno da parte di tutti gli Stati europei a bloccare nel futuro l'export per gli armamenti verso la Turchia, perché non possiamo accettare quello che sta facendo la Turchia. L'Europa parla con una voce oggi e tutti gli Stati condannano quello che sta facendo la Turchia nel territorio siriano e soprattutto tutti gli Stati membri si sono impegnati a bloccare l'export degli armamenti. Questo vuol dire che nelle prossime ore anche l'Italia firmerà con un decreto ministeriale che devo firmare come Ministro degli Esteri l'export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni. Era importante per noi che tutta l'Europa assumesse la stessa posizione e abbiamo lasciato ai singoli Stati l'impegno di farlo, perché questo crea immediatezza, cioè ogni uno di noi dopo questo impegno potrà firmare i propri atti che servono a bloccare l'export e ovviamente questo fa sì che non si debba lavorare ad un embargo europeo che poi porta a mesi e mesi di lavoro che poi avrebbero sostanzialmente vanificato l'immediatezza dell'intervento. Queste le parole di Di Maio che vede legittimamente dal suo punto di vista il bicchiere mezzo pieno. Io vado subito a Bruxelles dove è collegata con noi Laura Ferrara che è appunto Eurodeputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Ferrara. Buongiorno a voi. Allora, insomma oggi c'è un grande titolo su Repubblica. Europa vergognati. Come dire, la posizione dell'Europa rispetto a quello che sta succedendo in Sire, rispetto all'offensiva di Erdogan, è poco più che un balbettio. Guardi, è sempre difficile riuscire ad ottenere delle risposte immediate da parte dell'Unione Europea per due motivi. In primis per la tempistica, perché ci sono comunque delle procedure e dei passaggi da rispettare e questo richiede del tempo. E in secondo luogo l'accordo, cioè trovare un accordo tra 28 Stati membri richiede sempre del tempo e delle negoziazioni. Devo dire che questo giro sembra che l'Unione Europea stia parlando con una voce sola. È vero che all'ultimo Consiglio europeo dei Ministri degli Esteri si è preferito lasciare che ogni singolo Stato membro facesse il proprio decreto ministeriale per imporre lo stop all'export delle armi. Però su questo posso testimoniare come appunto si sia scelta, si sia intrapresa questa decisione proprio per evitare le lungaggini tempistiche che invece una decisione presa in l'Unione Europea in seno magari al Parlamento con il coinvolgimento di Commissione e Consiglio avrebbe richiesto. Io ricordo proprio quando si trattò di fare l'accordo con la Turchia per la gestione dei flussi migratori, per il quale peraltro noi ci siamo detti sempre estremamente contrari, che proprio per avere una maggiore velocità tempistica si partì con un accordo internazionale, il cosiddetto International Agreement, però poi di fatto richiedeva delle procedure giuridiche che, ripeto, prevedevano dei tempi lunghi. Da lì si passò allora ad un deal, ad un patto, ma anche lì bisognava rispettare comunque delle procedure, bisognava effettuare delle discussioni e alla fine si è concluse con uno statement, ovvero con una dichiarazione dei singoli Stati membri, una dichiarazione intergovernamentale. Ora, al netto della forzatura giuridica che si adottò in quel periodo è al netto anche della nostra contrarietà per quanto riguarda proprio la bontà politica di un accordo di questo tipo per la gestione, per l'esternalizzazione dei flussi migratori e lo vediamo poi con le dichiarazioni di Erdogan che è immediatamente minacciato di far arrivare milioni di migranti e qualora non avessimo appoggiato adesso la sua offensiva in Siria, ecco posso dire che talvolta l'Unione Europea parla con una voce sola, però devono muoversi singolarmente gli Stati membri e i Paesi membri dell'Unione Europea. Chiarissimo, bentornato da Roberto Sommella, condirettore di Milano Finanza, grande esperto di questioni europee. Il riferimento dell'Unione Europea Ferrara, utile e istruttivo, conteneva, adesso lo diciamo più esplicitamente, il fatto che l'Europa ha dato 6 miliardi di euro alla Turchia per bloccare la rotta balcanica, tanto per capirci. Ieri nella riunione a cui facevamo riferimento ai ministri degli esteri, la Germania e i Paesi di Visegrad sono stati più prudenti perché sono i più esposti al ricatto possibile di Erdogan, hanno di riaprire la rotta balcanica. La tua riflessione qual è? Cioè l'Europa risponde in questo modo, la Turchia è a pieno titolo nell'Alleanza Atlantica, ma mi pare che anche da quelle parti non si muova nulla, le Nazioni Unite si sono riunite d'emergenza, ma insomma non è venuto fuori nulla, insomma Erdogan farà il suo lavoro sporco e nulla succederà? Temo proprio di sì perché se l'Europa, l'Unione Europea, anzi ha avuto ieri una voce unica, non si è sentita affatto, è stato un pigolio di un pulcino. La voce, l'Unione Europea, e parlano europeista, quindi non è che possa essere tacciata di sovranismo, se la fa venire soltanto quando si tratta di decimali, di conti e di problemi diciamo economici, allora lì c'è proprio una sfilza di commissari europei pronti a fare le pulci soprattutto all'Italia. Quando si tratta di vite umane, di persone, di civili, di bambini uccisi, senza assolutamente che ci sia un motivo, ammesso che un giorno ci possa essere un motivo per questo, l'Europa diventa una semplice espressione geografica, questa è davvero una cosa sconvolgente, ripeto soprattutto per tutti coloro che credono invece nella condivisione degli ideali europei, l'Europa è nata dalle ceneri di una guerra, di due guerre e dovrebbe ricordarsi cosa significa stare sotto le bombe, è una vergogna vera e propria, senza se e senza ma, capisco tutte le giustificazioni del caso, evidentemente è macchinoso mettersi d'accordo, capisco pure che Italia, Germania e Francia, diciamolo chiaramente, sono anche dei paesi esportatori di armi, quindi bloccare l'export da oggi in poi significa poco perché le armi sono già arrivate, bisogna semplicemente bloccare i 6 miliardi che sono salitati dalla Turchia, quelli vanno bloccati, i soldi, con tutte le conseguenze del caso, certo, però se siamo una grande unione ce ne dobbiamo accollare questa responsabilità, se no parliamo e basta. Bentornato al professor Paolo Crepe, a cui chiedo, intanto abbiamo riscoperto improvvisamente la diaspora kurda, si è molto parlato del popolo kurdo, dell'iniziativa militare di Erdogan, del disimpegno di Trump, perché poi col disimpegno di Trump, diciamo il disimpegno dei militari americani ha dato poi il via libera all'offensiva di Erdogan, lei che ne pensa? Se intanto pensa che questa questione sia una questione sentita, cioè interessi? Io credo che interessi solo il petrolio, il resto non gliene importa niente a nessuno, non gli importa niente a Trump, non gli importa niente all'Europa, che è la culla dell'inciviltà, è diventata la culla dell'inciviltà, si figuri lei si interessa a Putin, quindi tutte le le persone che sono interessate a questa cosa e poi fanno fare il lavoro sporco a Erdogan. Giochetto molto facile, prima prendono i soldi, poi minacciano, siamo sotto ricatto, poi non c'è una identità europea, se non c'è un'identità europea almeno ci sia un gesto clamoroso da parte di uno Stato, per esempio l'Italia, per esempio. E che dovrebbe fare dal suo punto di vista? Non fare questo balletto dei contratti futuri perché questo non ci prendono in giro, francamente alzarsi la mattina e essere presi in giro dai nostri ministri anche no, hanno lapidato una giovane straordinaria combattente per i diritti dell'uomo, dei bambini e delle donne, l'hanno lapidata dopo averla violentata e noi stiamo qui con le quisquiglie, il contratto vedremo il futuro, per favore non ci prendete in giro perché questo porta un ulteriore drammatico allontanamento della coscienza civile e della politica. E porta anche vento nelle vele dei sovranisti rispetto all'Europa? No, no, porta solo vento alle vele del cinismo della politica. Cioè la politica è il luogo del cinismo, proprio di macchiavelliana memoria, per cui la ragione di Stato va bene, soprattutto quando la ragione di Stato è la ragione del portafoglio. Eh, di fare parole inequivocabili quelle del professor Crepe, allora pubblicità e poi ripartiamo, ovviamente se i nostri ospiti non devono raggiungere altro sulla vicenda dell'asile, ripartiamo dalla questione delle questioni che è appunto la legge di bilancio, tutti i provvedimenti fiscali, insomma quello che tra poco sarà messo nero su bianco dal governo e che segnerà peraltro i prossimi mesi dal punto di vista poi dell'iter parlamentare e quindi insomma seguiremo tutti i giorni come da sempre facciamo anche questa questione. Ci vediamo tra pochissimo. Pur nel rispetto di tutti, ma perché in Italia il primo pensiero sono sempre i sessantenni e mai ventenni, trentenni o quarantenni. È giusto mandare in pensione prima i disoccupati o chi fa lavoro i gravosi e usuranti come gli insegnanti, gli operai, ma spendere miliardi di euro per mandare in pensione i dirigenti, per noi è sbagliato, preferiamo usare quei soldi per abbassare le tasse. I renziani non governano da soli, ma governano con una maggioranza. Ripeto, è una misura sperimentale che, secondo il Ministro del Lavoro, va mantenuta così com'è, fino alla sua naturale. Scadenza. Quanto riguarda quota 100 è una delle misure su cui ci stiamo lavorando, eccetera, e ci continueremo a lavorare. Se riusciremo, come confido, già in queste ore, aggiorneranno continuamente a risolvere qualche piccolo dettaglio, potremo andare questa sera in Consiglio dei Ministri. Altrimenti, sapete, il termine è domani. La maggioranza è compatta perché io dicevo che c'era un ottimo clima di lavoro, quindi abbiamo lavorato confrontandoci e assolutamente non c'è nessun confido. Ho detto che i renziani vorrebbero abolirla e tornare alla legge Fornero. Li teniamo chiusi in Parlamento giorno e notte, se provano a smontare quota 100. Questa è una promessa che faccio agli italiani. Allora, Salvini annuncia ostaggi, diciamola così, mettiamola così per cercare un sorriso. Conte rassicura maggioranza compatta e invece, come sapete, come sappiamo, su quota 100 in particolare, ma non soltanto su quota 100, ci sono differenze importanti, in questo caso tra i renziani di Italia Viva e il Movimento 5 Stelle. Peraltro poco fa si è saputo che alle 11 di questa mattina ci sarà il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per fare il punto sul documento, così si chiama, programmatico di bilancio, che sarà varato questa sera dal Consiglio dei Ministri e poi immediatamente inviato a Bruxelles. Allora, riparto da Roberto Sommella. C'è questo problema, questo scoglio di quota 100. adesso si pensa a una clausola di salvaguardia, insomma è ancora molto complicata la situazione. Non voglio avventurarvi in discorsi difficili, soprattutto perché non c'è ancora un testo scritto definitivo. è tornata in gran spolvero la possibilità di abbassare il tetto per i pagamenti incontanti da 3.000 a 1.000 euro, ed è un'altra delle cose che forse troveremo nella manovra. si parla di detrazioni da rivedere in base al reddito, insomma è chiaro che è un lavoro in progress, se dovessi fissare dei capisaldi dal tuo punto di vista quali sono, a parte lì scongiurare l'aumento dell'IVA? Io credo che si doveva risettare tutto. Io l'ho scritto qualche tempo fa proprio su Milano Finanza, io credo che una operazione di verità sarebbe stata da questo governo nato un po' per caso che ha trovato per terra il biglietto della lotteria e non aveva nemmeno comprato questo biglietto, era di eliminare le due misure che alla fine non hanno avuto nemmeno un grande successo e sono il reddito di cittadinanza per evidenti motivi fiscali, perché poi lo Stato prima di dare un reddito di cittadinanza a una persona che si dichiara di fatto nulla tenente, fa miliardi di controlli, deve avere il motorino 125, se ce l'hai 250 non ce l'hai, tanto per fare un esempio, e sulle pensioni, il vero problema è quello di creare lavoro, eliminare queste due... La forza di maggioranza del governo è il Movimento 5 Stelle, ma il PD ha qualche voce in capitolo, oppure sta lì a ricasco del Movimento 5 Stelle, detto proprio senza avere un approccio ideologico, mi sembra che il Movimento 5 Stelle stia facendo lecitamente la sua battaglia e mantiene ovviamente il punto sul reddito di cittadinanza, addirittura su quota 100, non ho capito il PD e le forze invece di sinistra, che compongono la maggioranza giallorossa, che tipo di proposte hanno? Noi abbiamo tre problemi e sono sempre gli stessi, un elevatissimo debito pubblico e non si incide per nulla, anzi il debito aumenta, quindi non si taglia e non si fa una privatizzazione, un'elevatissima evasione fiscale che non viene incisa con queste misure, perché sono misure che aggravano, che tassano il PIL, mentre invece oggi abbiamo una notizia su MF Milano Finanza, che ci sono ben 142 miliardi di euro in paradisi offshore italiani che si possono recuperare e verranno tassati se non saranno individuati le persone fisiche che sono detentrici di questi paradisi fiscali, perché si sa dov'è l'evaso, bisogna andare a avere la forza politica di andare a cacciare Cioè, come dire, qui invece rischiano i soliti noti al fisco, non i veri evasori, perché i 7 miliardi di euro si è scoperto che poi alla fine non sono soldi recuperati, sono soldi che si devono recuperare, noi sappiamo, siamo italiani, quindi sappiamo come funziona, che quando si devono recuperare dei soldi si tende a tassare, non a recuperare dall'oggi al domani 7 miliardi. E il terzo problema è il lavoro, finché evidentemente non si dà un incentivo fortissimo alle aziende ad assumere e questo incentivo non può che nascere da una brusca, forte riduzione fiscale sulle aziende che pagano ormai il 60% tra burocrazia e fisco di tasse, questo Paese non riprenderà mai. Questi tre temi sulla manovra, nella manovra non ci sono, non c'erano manco nelle ultime manovre, quindi non è che è proprio una colpa specifica di questo governo, tutto il resto è così, è pagliativo. Allora, facciamo entrare intanto il senatore Luca Ciriani che è il capogruppo di Fratelli d'Italia, eccolo qui, benvenuto, vittima del traffico di Roma. Vado però subito, torno da Laura Ferrara, insomma ha sentito sommella. Forse bisognava prendere di petto la questione, cioè visto che reddito di cittadinanza e quota 100 non hanno avuto gli effetti previsti che si speravano, tanto che in entrambe le misure ci sono dei risparmi consistenti, perché non rimettere tutto in discussione? No, ma non sono così convinta che reddito di cittadinanza e quota 100 non abbiano avuto gli effetti che si sperava, a parte che è necessario comunque un lasso di tempo maggiore per capire gli effetti che possono dispiegare queste due misure, perché comunque si sa che sono entrate in vigore pochi mesi fa, per cui ancora bisogna vedere nel tempo che tipo di risultati hanno. Ma comunque sono delle misure estremamente positive che sono state accolte in maniera estremamente positiva da tantissimi cittadini, sono delle battaglie identitarie del Movimento 5 Stelle, per cui sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista economico, siamo convinti che si debba proseguire su questa strada e che debbano essere due misure assolutamente da mantenere e da non mettere in discussione. Su questo devo dire che, ad esempio sul reddito di cittadinanza, anche il PD che inizialmente era stato molto critico, si è ricreduto e ha riconosciuto comunque la bontà della misura al netto comunque di una serie di modifiche che vanno fatte, di migliorie che vanno fatte. Siamo consapevoli che non è la perfezione, che ci sono comunque degli accorgimenti che vanno effettuati soprattutto per limitare al massimo le frodi. Però abbiamo visto come i controlli, sì, senz'altro c'è da migliorare, ma abbiamo visto comunque come già da ora i controlli hanno funzionato. Senta, posso chiedere una cosa che insomma è di dominio pubblico, no? Cioè lei dice anche il PD che inizialmente era contrario ha dato il suo avallo. In verità quello che si dice è che la misura può essere molto importante per tutta quella fascia crescente ai noi di famiglie e persone bisognose sotto la soglia di povertà o ai limiti della soglia di povertà. Ma dal punto di vista del lavoro, delle politiche attive, mi pare che a tutt'oggi il reddito di cittadinanza non abbia prodotto un solo posto di lavoro. Cioè forse si potrebbe ridiscutere quella parte del reddito di cittadinanza o no? Ora che non abbia prodotto neanche un posto di lavoro, insomma, le chiedo di portarmi questi dati, insomma, di citarmi le fonti perché credo insomma che non coincida proprio perfettamente con la realtà. È chiaro che anche questo, ecco, con estrema schiettezza rientra nelle migliorie da effettuare. Sicuramente per quanto riguarda le politiche attive, il funzionamento dei navigator e quindi tutto ciò che riguarda poi il trovare effettivamente un lavoro sono quei passaggi che vanno migliorati. Però ripeto, stiamo parlando di una misura che è entrata in vigore pochi mesi fa con uno stravolgimento dei centri per l'impiego, con diciamo un cambiamento di tutto ciò che riguarda il funzionamento procedurale anche di questi centri e quindi diamo tempo al tempo e facciamo in modo che questa misura entri in vigore ed esplichi i propri effetti in maniera effettiva. Lei dice aspettiamo che la misura, insomma, dispieghi i suoi effetti. Arrivo subito da voi, intanto ci colleghiamo con la Camera, da pochissimo ha cominciato il suo intervento il ministro degli esteri Di Maio, sentiamolo. ...in favore poi di un successivo riassestamento locale della minaccia terroristica. Gli scenari iracheno, afgano e libico ne sono la palese testimonianza. Ad ogni modo la gravità di quanto sta accadendo, anche alla luce delle possibili conseguenze su cui mi soffermerò più avanti, ha imposto l'esigenza di rappresentare al governo turco in modo fermo e con la massima chiarezza la nostra contrarietà a questa operazione. Allora adesso riprenderemo poi, vi daremo conto anche insomma delle cose che sta dicendo il ministro Di Maio a proposito della crisi siriana. Allora, voglio chiedere al professor Crepe, molto rapidamente adesso vi facciamo sentire una testimonianza, lei cosa pensa di quota 100, cioè in un paese che invecchia sempre di più, ha una ragione d'essere quota 100 dal suo punto di vista o no? La politica ha bisogno di una visione, se lavoriamo giorno per giorno non andiamo a nessuna parte, quindi è chiaro che dipende da che cosa vogliamo raggiungere da qui a 5 anni, a 10 anni. Se vogliamo avere un paese con un terzo che lavora e due terzi che non fanno niente, bisogna vedere se poi la struttura economica regge. perché se noi mettiamo sul divano i giovani e mettiamo dei giovani sessantenni a pescare le trote in montagna, non so se ce lo possiamo permettere da una parte e dall'altra parte secondo me non ce lo possiamo eticamente permettere, non solo economicamente, perché è un danno incalcolabile che i giovani talenti siano pagati per non fare niente, è così come è un danno incalcolabile che una persona di grande esperienza dentro un'azienda debba andare a casa per poi magari tornare a fare consulente dopo domani all'azienda medesima, queste sono cose, poi qualsiasi cosa il governo fa e parla di reddito, bisogna stare attenti in Italia a parlare di reddito, perché ci sono delle categorie che pagano poche tasse, e allora come fai a dire reddito, cioè chi paga totalmente le tasse è chiaro che va su, chi non le paga è chiaro che rimane giù, perché io devo aiutare una categoria che so che evade, lo so per certo, basterebbe andare al commercio, andare in giro e vedere chi evade di più, io non metto sotto accusa nessuno, però so che quando mia figlia era all'università io ho dovuto pagare il 100 e forse 20% delle tasse, perché io sono totalmente fatturato, poi c'era l'amica di mia figlia che aveva il papà che faceva uno strano lavoro e che pagava il 20% delle tasse universitarie ed era più ricco di me, aveva macchine meravigliose, andava in vacanza, come funziona in Italia? All'asilo comincia questo, senza arrivare all'università si è fatto l'asilo, ma qualsiasi cosa, anche la tessera dell'Attac, qualsiasi cosa è basata, allora per esempio il fatto di arrivare a pagare in questo paese il caffè con una carta di credito, questo è già un passo in avanti. Di lei è favorevole alla totale pagiabilità, un caffè, una carta come negli Stati Uniti, vai al bar e paghi con quella carta di credito, naturalmente si abbassano le aliquote per le carte di credito, le commissioni famose, sì. Allora vado dal senatore Ciliani, le faccio vedere, vi faccio vedere la testimonianza di chi è riuscito a usufruire di quota 100, sentiamola. Ho aderito a quota 100 perché dopo 42 anni ero stanco. Marco è tra gli italiani che hanno scelto di andare in pensione con quota 100, provvedimento bandiera del vecchio governo giallo-verde. A 63 anni è un ex dipendente IMS con 42 anni di anzianità contributiva. Ho visto andar via negli anni i colleghi con i 25 anni di anzianità, poi con i 35, poi con i 40, poi i gradini, i gradoni e a questo punto ho preso la palla al balzo. Ma chi conviene quota 100? Quota 100 è sicuramente una misura che diventa più attrattiva per quelle fasce di lavoratori che hanno avuto nel corso del tempo una retribuzione un po' più alta e che hanno già una condizione economica di partenza che gli consente di ammortizzare la perdita sull'assegno previdenziale. Marco ad esempio può contare su una pensione intorno ai 2000 euro, rinunciando a circa 300 euro al mese che avrebbe avuto se fosse andato in pensione per anzianità. Non ho avuto grossi problemi a rinunciare a questo importo perché non ho grossi impegni economici da affrontare. La casa me la sono comprata ai tempi, con i sacrifici, mia figlia lavora. Ma dal momento che l'adesione a questa misura è stata al di sotto delle aspettative, cosa ha spinto molti a dire no? Dobbiamo considerare che i dipendenti pubblici hanno l'erogazione completa del trattamento di fine servizio anche dopo sei anni dalla maturazione del requisito della pensione e quindi sicuramente questa è una penalizzazione che non è stata affrontata e dall'altro comunque l'anticipo previdenziale comporta una decurtazione del trattamento dell'assegno previdenziale. Da quando sto in pensione è cambiato il ritmo della mia vita, nel senso che la prima cosa che ho fatto è stato spegnere la sveglia, considerando che sono nonno di due bambini ancora piccolissimi, quindi spero, conto di poter essere d'aiuto anche a mia figlia e godermi i miei due nipotini. Poi spero anche di recuperare un po' di esercizio fisico abbandonato negli anni, di recuperare un po' anche oltre che di relax mentale, anche un po' di recupero fisico. Insomma, visibilmente soddisfatto il nostro intervistato. Senatore Cirani, lei che idea si è fatta per adesso, da quella che sarà la legge di bilancio che sta arrivando? Beh, in realtà non ho un'idea perché credo non ce l'abbia neanche il Presidente Conte e neanche la maggioranza di cosa sarà questa legge di bilancio. Tanto è vero che mi pare che il Consiglio dei Ministri sia stato rinviato a questa sera per i chiarimenti. Ogni giorno leggiamo coperture diverse. Devo dire a parziale discolpa del Conte 2 che le responsabilità di questa manovra così complessa sono del Conte 1, cioè delle non scelte fatte l'anno scorso in parte di quota 100 e molto reddito cedinanza. L'anno scorso si è perduta l'occasione di utilizzare le risorse per fare investimenti in taglio delle tasse, si è scelta la strada della spesa corrente, quota 100, ma anche reddito cedinanza e ora si pagano le clausole salvaguardia che portano la firma del Conte 1 perché è stato il Presidente Conte. Però la sua volta aveva ereditato dai governi precedenti. Questa misura così gravosa e poi ricordo che l'anno prossimo sarà anche peggio perché sono previste per 28 miliardi. Quindi paghiamo, secondo me, le mancate scelte della maggioranza gialloverde e quest'anno replichiamo con una maggioranza ancora più, secondo me, diversa e contraddittoria al proprio interno. Noi vediamo coperture farlocche, lotta all'evisione fiscale quotata a 7 miliardi e 2, non so da dove riusciranno a prendere queste risorse. Vediamo che la separazione tra le spese di investimento e la spesa corrente, che vi ricordo anche il Presidente Mattarella recentemente aveva, come dire, sottolineato fosse una scelta ragionevole da chiedere all'Europa, non se ne ha più traccia. Per cui alla fine anche l'aiuto dell'Unione Europea a questa manovra, non si sa dove sia, ma è molto risicata, alla fine è una manovra che secondo me avrà un'incidenza quasi nulla sulla crescita di questo Paese. Il problema è che questo è un Paese che non cresce, non è cresciuto l'anno scorso e non crescerà l'anno prossimo. Ricordo per quanto riguarda quota 100 e reddito di cittadinanza che l'impatto zero non è un'invenzione dell'opposizione o di Fratelli d'Italia, ma è stato scritto un nero su bianco sui documenti del bilancio del Governo questa primavera, perché questa primavera il Governo ha certificato che i due provvedimenti non hanno ottenuto i risultati sperati in termini di crescita. Per quanto riguarda quota 100, che è un provvedimento che io in parte difendo perché avevo una natura tra virgolette etica dopo quello che era successo con la Fornero, quello che è vero e onesto dire è che la sostituzione dei posti di lavoro non c'è stata, si parlava addirittura di uno che usciva, due o tre che entravano, ma questo non è avvenuto perché quota 100 nelle industrie, io vengo dal nord-est, è stata utilizzata come una specie di ammortizzatore sociale, diciamo così, facevano in 9 quello che prima facevano in 10 e poi quota 100 che doveva aiutare soprattutto... Diciamo che può avere una ripercussione maggiore sul pubblico quota 100 più che sul privato. In parte, è una manovra che io difendo, ma in parte il quota 100 doveva servire per i lavatori usuranti, coloro che dopo 40 anni in cantiere decidevano che è giunta l'ora che a 60 anni possa smettere di stare in cantiere. Invece abbiamo visto che la parte del leone l'hanno fatto i dipendenti pubblici che con tutto rispetto non è ancora un lavoro usurante come andare in fonderia o andare ogni mattina in fabbrica. Allora, è tardissimo, devo sentire quella replica di Laura Ferrara, devo sentire sia Sommella che Crepe, poi vi do un dato dell'Istat che è appena arrivato e che è molto importante a proposito dei discorsi che stiamo facendo. A tra poco. Allora, torniamo subito alle questioni economiche. Intanto Di Maio, che abbiamo visto poco fa nel suo intervento alla Camera, l'informativa sulla situazione in Siria, tra le altre cose ha detto l'intervento della Turchia è ingiustificabile, nonostante alla Turchia ci legano i vincoli dell'alleanza atlantica. Poi, ha detto ancora Di Maio, siamo grati ai kurdi siriani per la lotta che hanno fatto all'ISIS e poi ha detto una cosa importante a proposito delle iniziative, in questo caso unilaterali dell'Italia, lo stop alla fornitura delle armi, ha detto Di Maio, oltre alla sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia, che avverrà per decreto, quindi il decreto che sarà firmato proprio dal Ministro Di Maio, l'Italia avvierà anche un'istruttoria dei contratti in essere con Ancara. Ci ha ascoltato. Ci ha ascoltato Di Maio, sarà una cosa complicatissima ovviamente, però l'ha annunciato in Parlamento. Torno da Laura Ferrara per una replica dando due notizie dell'Istat. Allora, la prima, nel 2017 l'economia non osservata vale circa 211 miliardi di euro, cioè oltre il 12% del PIL. Lo dice l'Istat, che precisa anche che l'economia sommersa ammonta poco meno di 192 miliardi di euro e le attività illegali a circa 19 miliardi, che vuol dire, decodifichiamo un po'? Beh, è tutta roba che non paga tasse. Eh, questo vuol dire diciamo un centinaia di miliardi di tasse in meno e staremmo tutti meglio. Oh, e poi ci dà un dato anche sul lavoro irregolare, sono dati sempre riferiti al 2017, i lavoratori irregolari nel 2017 erano 3 milioni e 700 mila. È una cifra colossale, anche qui meno sicurezza, molto meno sicurezza per i lavoratori e molti meno introide. L'evasione contributiva, eccetera. Allora, se sommiamo i 142 miliardi di evasione offshore, arriviamo a 500 miliardi che è un terzo del PIL. Ecco lì che... Tutto questo avrebbe una soluzione abbastanza ovvia e banale. Se io vado dal dentista e lui mi dice che il conto è 2.000 euro, e il mio commercialista mi dice che io, se no, riesco a scaricare il 18%, secondo lei cosa succede? Eh? Che mi metto d'accordo? C'è quello che tutti i giorni avviene in Italia spesso. Io voglio poter scaricare... No, senza criminalizzare i dentisti in generale. Psichiatri, psichiatri... No, lo dico subito. No, ma lo faccio per un discorso, perché il dentista è una cosa a cui ci si rivolge con una certa frequenza. Sempre meno, molti italiani possono rivolgersi. Ma non è colpa dei dentisti, è colpa dello Stato che i dentisti non c'entrano assolutamente niente, ci mancherebbe altro, poveracci. Io sto dicendo che tutte quelle categorie, ma anche chi vende una camicia, se io mi compro una camicia, ma perché non la devo scaricare? Ma perché non la devo scaricare? Un paio di calzini, perché non li devo scaricare? Fai una cosa semplice, il 50% di tutto quello che acquisti lo scarichi. Non so questo rispetto al gettito generale che è qui. Ma no, perché emerge l'erono, emerge l'erono, certo che c'è un minore... C'è il contratto di interesse, no? Il mancato gettito verrebbe compensato, penso di immaginare, dall'aumento dei consumi. Prova, provata, quando hanno fatto le misure sulla ristrutturazione delle case. Non c'è dubbio che finché il fisco tartassa i soliti nodi, cioè coloro che pagano le tasse, diciamo c'è la dusta, e invece non prende gli evasori, qua si può solo chiacchierare di lotta all'evasione fiscale. Ma non è vera lotta all'evasione fiscale. Cioè si stringono sempre di più le maglie sui contribuenti. Mi fate sentire a questo momento di Laura Ferrara? Perché c'è una questione che è stata sventita da Conte, dai protagonisti, diciamo, di questa polemica di sottofondo, che è quella delle misure per contrastare l'evasione fiscale, tra cui il carcere annunciato da Di Maio. Però Di Maio ha detto, noi non vogliamo tartassare gli artigiani, i commercianti, cioè bisogna prendere i grandi evasori. C'è una sfumatura, ci sono sfumature diverse tra Di Maio e Conte, Ferrara, su questo? No, 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 si tratta esattamente della stessa cosa. Cioè si tratta di andare ad aggredire i grandi evasori, che rappresentano il problema reale nell'elusione del pagamento delle tasse, e quindi prevedere anche delle misure, da un punto di vista penale, delle misure sanzionatorie, da un punto di vista penale, che possano fungere da reale deterrente per chi ha intenzione appunto di evadere grandi tasse. Perché finora purtroppo tutto questo non c'è stato, i grandi evasori se la sono sempre cavata e di conseguenza poi abbiamo dei problemi enormi con i dati che citava prima. Quindi l'obiettivo è quello di varare una misura normativa che possa realmente essere efficace per i grandi evasori. A fianco a questo è necessario anche lavorare per, anche a livello europeo, soprattutto a livello europeo, per contrastare i cosiddetti paradisi fiscali. Perché quando parliamo di paradisi fiscali siamo perfettamente consapevoli che sono esistenti all'interno della stessa Unione Europea. Abbiamo lavorato molto su questo. Esattamente, cioè insomma c'è stata una commissione di inchiesta che è stata istituita nella passata legislatura, proprio per fare luce sui paradisi fiscali esistenti all'interno dell'Unione Europea. Juncker, da presidente della Commissione Europea, aveva comunque un conflitto enorme, considerato che era stato premier in Lussemburgo, che è proprio uno di quei paesi che è il cosiddetto paradiso fiscale. Per cui anche lì bisogna andare a lavorare in maniera estremamente incisiva, perché altrimenti, insomma, sono delle misure vane. A fianco a questo poi voglio toccare altri aspetti che sono stati trattati prima. Per quanto riguarda Quota 100, molto brevemente, negli ultimi quattro mesi comunque sono circa 78.000 le domande che sono arrivate, che è un grande numero, ma che non coincide con tutta la platea che comunque aveva diritto a questa misura. Questo cosa significa? Significa che è stato speso molto meno rispetto ai miliardi che erano stati istanziati. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che, siccome prima si diceva che non è corretto, che un dirigente debba andare in pensione, non si parla di debba, ma è una possibilità, è una scelta. Può andare in pensione nella misura in cui lo ritiene opportuno. Ecco, c'è chi ha deciso di avvalersi della Quota 100, chi invece ha preferito continuare a lavorare. Un ultimo aspetto, so che magari si trattano argomenti diversi, non proprio legati tra di loro, ma sono stati trattati prima, sulla Turchia. Sono estremamente contenta delle dichiarazioni del nostro ministro Di Maio, perché è importante che, se non lo si fa a livello di Unione Europea, ma quantomeno si guarda al proprio Paese di appartenenza, a fianco allo stop dell'exporto di armi, si affianchino anche delle sanzioni economiche e comunque delle ulteriori misure che diano un segnale importante. Prima quando si diceva l'Unione Europea... Concludo proprio... Aspetta, Aspetta, Ferrara, scusi, c'è una domanda che le vuole fare crepe, è una domanda. Gliela facciamo fare? Sì. No, volevo sapere, perché non chiedete come governo, come Italia, che non si giochi la finale della Coppa Campioni in Turchia al prossimo anno? Lo chiedete in maniera unilaterale, non costa niente, è un gesto di grande impatto emotivo anche. E credo che sarebbe ben compresa da chiunque. E fa male. Guardi, è sicuramente una proposta che può essere presa in considerazione, perché visto l'orrore che sta accadendo in Turchia, qualsiasi cosa che possa rappresentare non soltanto un segnale forte, ma anche poi una misura concreta per frenare quanto sta accadendo in Turchia, insomma, che ben venga. Rispetto a quell'Unione Europea che ha una voce, per così dire, flebile, rispetto a quanto sta accadendo in Turchia, io evidenzio, così come avevo detto nel mio primo intervento, la contraddizione di fondo che c'è, diciamo, all'interno dell'Unione Europea, che pochi anni fa ha dato, come ricordavo, insomma, 6 miliardi di euro per esternalizzare la gestione dei flussi migratori e quindi per affidare alla Turchia i migranti. E di conseguenza ci ritroviamo a un'Unione Europea che riconosce quasi la Turchia come paese sicuro, quindi paese in cui si tutelano i diritti fondamentali al punto da poter gestire i migranti, e poi un'Unione Europea che comunque deve fare la voce grossa e condannare quanto sta accadendo in quello stesso paese nelle cui mani si è raffidata pochi anni fa. Eh, queste sono le grandi contraddizioni. Allora, facciamo così, arrivo, torno da lei, però prima devo salutare Paolo Sottocorona. Buongiorno. Peraltro dopo Paolo Sottocorona veniamo a un altro tema di cui si discute molto a proposito di politica e di scenari, diceva che, beh, di visioni per la famiglia che stiamo facendo e stiamo facendo qualcosa. Poi ne parliamo. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Ecco qua. Piano piano sono entrate queste nuvole da ovest, sono entrati i temporali, già ci sono delle zone come la Liguria di Ponente con qualche disagio. È una perturbazione piuttosto organizzata, quindi il cambio del tempo è ben marcato. Sarà un passaggio abbastanza rapido. Perché? Guardate, le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi, cioè calcolate fino alle 14, vedono già appunto l'ingresso di fenomeni anche intensi proprio dal confine occidentale, piogge moderate, ma abbiamo visto localmente anche abbondanti, in Liguria, e poi delle piogge più deboli che avanzano sul Tirreno. Nella seconda parte della giornata, dalle 14 alle 2, questi fenomeni localmente intensi, quindi temporali essenzialmente, avanzano verso oest. È addirittura inserata qualche schiarita in Piemonte, quindi passa, come dicevo, abbastanza rapidamente. Nel frattempo, nel pomeriggio, piogge moderate anche su tutto il versante tirrenico del centro, qualcosa arriva anche al sud, meno sul versante adriatico. Quindi già questo spostamento nelle 12 ore è abbastanza evidente. Ancora più evidente questo spostamento nella giornata di domani, nella quale complessivamente le piogge restano sul nord-est e deboli sul basso Tirreno, quindi la parte più intensa sicuramente sarà passata. Giovedì si riaffaccia qualcosa molto meno forte, molto meno intenso, qualche pioggia debole, vedete sul nord-ovest, la Liguria, un po' sul nord-est, e se no ci sono un po' di nuvole. Questo primo passaggio, qualche calo nelle temperature, lo comporterà, ma anche questo non dovrebbe durare molto. La foto che ci manda Giacomo, un tramonto a Vada, talmente bello che sul muro del cimitero compaiono i fantasmi, ad ammirare questo panorama. Almeno questa è la sua interpretazione, però questa silhouette femminile non è inquietante, perché poi i fantasmi non è detto che debbano essere cattivi, insomma, sono anime inquiete, quindi magari sarebbe da risolvere anche il problema dei fantasmi, pensate un po'. Grazie al nostro meteorologo filosofo, Paola Sottocorona, qualche minuto di pubblicità e torniamo parlando anche di misure, se e quali per la famiglia. Tra poco. Allora, alla Camera, dopo l'intervento di Di Maio, è cominciato il dibattito parlamentare, ha parlato tra gli altri Giorgetti della Lega, che ha detto, dobbiamo dire a Erdogan, che da questo momento ogni ipotesi di ingresso della Turchia in Europa cade e non se ne parlerà più, ricordando che la Lega si è sempre opposta all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Senatore Cicliani, voleva aggiungere qualcosa perché poi vorrei farvi vedere qualcosa che le vuole dare la famiglia. No, se un momento rispetto alla discussione di prima sulla pressione fiscale, allora, è vero che c'è evasione, ma bisogna anche considerare che per tanti piccolissimi artigiani e commercianti l'alternativa a un'evasione difensiva è chiudere l'attività. L'evasione si combatterà nel giorno in cui la pressione fiscale sarà, come dire, accettabile. Se la pressione fiscale ti mangia sette mesi di lavoro all'anno, è chiaro che qualcuno non ce la fa, non può lavorare per lo Stato e soltanto. E vorrei ricordare, anche rispetto a quanto diceva la collega di Cinque Stelle, una parte dell'aggiornamento io lo condivido sulla grande evasione. C'è il tema dell'evasione dei grandi giganti del web. Il governo è già cinque, sei anni che annuncia i decreti attuativi per la lotta alla grande evasione, ma qui abbiamo giganti come Google, Amazon, Facebook, Netflix, che non pagano un euro di tassa in Italia, ed è uno scandalo. Allora, che la Guardia di Finanza insegua il barbiere perché non ha fatto la ricevuta e invece consenta ai giganti del web di non pagare le tasse in Italia, però quella è una decisione che va presa a livello europeo. La Francia ha già incominciato, il ministro Gualtieri ha annunciato anche lui che ci sarà qualcosa, aspettiamo che qualcosa arrivi, perché non possiamo stare sotto schiafo delle decisioni internazionali, è chiaro che questi giganti hanno una capacità politica di pressione lobbistica potentissima, però uno Stato sovrano deve anche decidere cosa vuole fare, non possiamo costringere il barbiere e il barista a chiudere per consentire invece ad Amazon di aprire non in parte d'Italia. Bisogna decidere da che parte vuole stare il governo, se vuole stare dalla parte del commerciante latigiano del piccolo imprenditore o dalla parte di grande grande. La prima cosa da fare è l'unione fiscale, perché noi viviamo in uno spazio comune europeo in cui in Ungheria si paga il 9% di tasse e in Germania il 33%. Questo secondo me è l'aspetto cruciale. In mezzo c'è una tassazione che noi abbiamo definito canaglia che permette lecitamente ai grandi player della rete, a Google, Facebook di andare a pagare il 12 e mezzo in Irlanda. Noi possiamo far pagare il massimo a Google, Facebook e company in Italia le tasse, ma quelli vanno a pagarle poi in un altro posto. Quindi finché l'Europa c'è un'unione fiscale che è un'unione fiscale, perché nell'eurozona ci sono paesi che hanno la moneta unica che sono dei paradisi fiscali illeciti. Lussemburgo, Irlanda, si parla poco dell'Austria che è un strumento normativo che si possa trovare per far pagare quel corso. Se c'è la volontà si arriva. Diciamo, su quello bisognerebbe lavorare. Allora, si parla per quanto riguarda le politiche di sostegno alle famiglie di un fondo unico da due miliardi, una dotazione di circa due miliardi di euro. In realtà anche il forum delle famiglie ha fatto sapere che le risorse aggiuntive sono di 500, di appena 500 milioni. Poi Del Rio ha anche annunciato che non nel 2020 ma nel 2021 si parlerà in maniera più concreta dell'assegno universale per i figli. Vi facciamo vedere una sequenza per riflettere per tenere allenata la nostra memoria di spot elettorali e interventi in tribune politiche a proposito della famiglia. Vediamo. E se poi noi pensiamo che il lavoro della donna ha aperto all'interno della famiglia italiana dei drammatici problemi quali l'assistenza dei figli quali l'assetto della vita domestica quali rapporti umani di tipo diverso che sono venuti avanzando ci si rende conto che sulle spalle delle donne ha pesato in questi anni veramente un peso qualche volta insopportabile. famiglia è una cosa stupenda è faticosa meno male che oggi hanno fatto nuove leggi che l'aiutano a segni di maternità che a figli paga meno tasse anche i papà possono stare a casa quando serve e poi ecco perché in famiglia si sta meglio fai vincere le cose che contano vota democrazia cristiana in italia le famiglie non arrivano alla fine del mese perché i salari e le pensioni non sono aumentati mentre è aumentato vertiginosamente il costo della vita vogliono disgregare l'italia il tuo mondo le tue speranze insieme lo impediremo fai vincere il tuo futuro vorrei fare un appello a tutte le famiglie italiane sia quelle di destra che a quelle di sinistra fermo restando che ognuno è libero di votare per chi vuole ogni famiglia dovrebbe destinare un componente della famiglia a votare per la lista pannella il nostro punto di riferimento sarà uno solo la famiglia innanzitutto la famiglia prima di tutto Mario è una vita che non andiamo a cena fuori Paola lo sai che non ce lo possiamo permettere ai tempi della destra i ricchi erano più ricchi i poveri più poveri e anche la famiglia spera non se la passava tanto bene i DS e l'Ulivo hanno progetti chiari per risolvere i problemi delle famiglie e distribuire meglio la ricchezza del paese nel Parlamento europeo Forza Italia si batterà per dare maggiore dignità maggiore considerazione a tutte le donne a chi si sacrifica ogni giorno con generosità con dedizione nella cura dei figli della famiglia grazie a Daniela Grandi che scova negli archivi questi spot queste dichiarazioni molto istruttive perché sostenere la famiglia vuol dire anche fronteggiare in qualche modo il collasso demografico che è uno dei grandi problemi non soltanto del nostro paese però sentendo tutta la sequenza che abbiamo appena sentito cadono le braccia o no? Beh anche perché poi tutte queste persone che hanno parlato qua sono tutte separate tre volte quindi insomma che siano loro a parlare di famiglia mi pare un po' così simpatico perlomeno insomerente diciamo mettiamola così io credo che la famiglia si le famiglie le nuove famiglie le diverse famiglie che ci sono in questo paese si aiutano con dei servizi per esempio la scuola perché se tu c'hai un ragazzino che a luna e mezza deve tornare a casa questo è un fardello economico e sociale insopportabile quindi ci deve essere una scuola a tempo pieno che si occupa di tenere un bambino un preadolescente non solo un bambino un preadolescente forse anche un adolescente fino alle 4 le 5 del pomeriggio a fare le cose che deve fare a crescere a studiare a prendere le cose questo è un dovere dello Stato che vale 10 volte di più che uno sgravio fiscale naturalmente anche perché produce cultura produce formazione produce generazioni che conoscono le cose che dovranno fare poi in futuro e su questo però ci dobbiamo mettere d'accordo perché negli ultimi 30 anni le politiche dei diversi governi hanno hanno teso a portare via soldi dalla scuola e questo è un fondamento noi non possiamo parlare di futuro se non si parla di scuola bisogna qualificare le persone bisogna valutare le persone che lavorano in quel settore bisogna dargli la possibilità di aggiornarsi e di non dover pagare per l'aggiornamento tutte cose evidenti e questo è un aiuto a una famiglia perché una mamma che lavora sa che il suo figlio non è in mezzo a una strada o a guardare la televisione alle 2 di pomeriggio e sta facendo delle cose importanti per la sua crescita e la sua formazione il senatore Ciriani il suo partito con Giorgio Meloni in testa insomma da sempre si batte per la misura abbiamo fatto anche tanti proposti di legge ci siamo confrontati anche nella scorsa finanziaria adesso ho letto che il governo voleva introdurre l'assegno unico che poi invece è sfumato spero che almeno o è rimandato vedremo sì rimandato speriamo che almeno gli asili indogratuiti possano diventare realtà perché questo sarebbe un grande aiuto alle famiglie e potrebbe anche costruire gli asili sicuramente per poterli garantire in generale siamo una società che purtroppo invecchia e che ha bisogno di fare figli e questo si può fare se si aiuta la famiglia con i servizi e anche con gli aiuti fiscali perché entrambe le cose sono importanti ci sono famiglie che possono contare sui nonni su famiglie in grado di aiutare e altre invece si trovano sempre meno forse sì del tutto isolate quindi anche un aiuto fiscale un assegno può essere importante importante che venga utilizzato per il fine per il quale deve essere utilizzato quindi noi abbiamo proposto un bonus per ogni figlio nato e attendiamo anche su questo che il governo passi un po' dalle promesse ai fatti perché anche questa finanziaria mi pare che la famiglia sia un po' sullo sfondo sullo sfondo sentiamo Laura Ferrara perché anche Di Maio ma tempo fa ne aveva fatto insomma un baluardo della famiglia ma mi pare che insomma vedendo lo scheletro almeno quello che sappiamo finora della manovra che verrà non mi pare che per la famiglia ci siano tutte queste risorse guardi è chiaro che si potrebbe sempre fare di più però poi come si suol dire la coperta è corta quindi bisogna fare i conti con la realtà c'è comunque un'attenzione importante nei confronti della famiglia e ci sono una serie di misure che sono state varate unitamente quindi ad un gettito maggiore di 500 milioni di euro quindi che arrivano poi a un totale di 2 miliardi e 300 milioni di euro per avere voucher per gli asili nido il bonus bebè e il bonus nascita a questo poi si aggiungono tutte quelle misure che saranno contenute nella legge delega per la famiglia che sono quali ad esempio il prolungamento del cogedo anche per il papà in modo tale da poterlo equiparare diciamo a quello della mamma quindi una serie di misure che permettono di come dire avere la gioia ecco di poter mettere su miglia cosa che è diventato quasi un privilegio negli ultimi anni in Italia è sempre più complicato ad abbassare quindi purtroppo i tassi di natalità chiudo con sommella perché poi mi pare che anche alla fine della nostra discussione il vero problema qual è? che bisogna trovare i soldi per i pensionati i soldi per la famiglia i soldi per scongiurare l'IVA i soldi per sostenere le aziende e i soldi per i reti cittadinanza per quota 100 e cioè non c'è una scelta forte di fondo beh perché lo Stato non agisce come una famiglia ma invece dovrebbe perché i problemi del governo sono i problemi di una famiglia io sono d'accordissimo bisogna aumentare le spese in istruzione perché come accade in Francia i libri non li compra lo Stato per il liceo qualcuno lo sa che i libri in Francia non su Marte vengono dati gratuitamente alle famiglie del liceo aumentare sicuramente i sussidi per tutti i giovani italiani che sono andati all'estero è uno scandalo mondiale 180.000 italiani sono all'estero sempre più giovani farli rientrare sussidiare le famiglie e non dimenticarci voglio aggiungere un aspetto che non abbiamo toccato che è importantissimo il rischio idrogeologico parliamo adesso degli anniversari tragici del terremoto noi siamo uno dei paesi meno assicurati al mondo contro i danni da rischio idrogeologico anche per questo il mio giornale mi permetto di ricordarlo giovedì lancia una grande campagna a Milano che è il festival delle assicurazioni prevenire prima di curare dobbiamo coprirci da tutti i rischi perché il nostro paese è meraviglioso ma ce ne accorgiamo semplicemente quando ci sono le tragedie buongiorno Mirta buongiorno caro Andrea allora noi ci occupiamo naturalmente della manovra siamo collegati con Palazzo Chigi dove sta per cominciare il vertice con Conte abbiamo tra l'altro un overbooking di ex ministri e l'economia stamattina perché abbiamo Pomicino che sono ministro del bilancio Paduan ministro dell'economia e poi abbiamo Tremonti e poi arriva anche Giuliano Amato per un'intervista molto speciale quindi rimanete con noi allora economia in primissimo piano mettiamola così oggi ovviamente da diversi punti di vista nell'area che tira grazie ai nostri ospiti grazie a tutti voi sempre per il seguito dell'attenzione che ci dedicate ci vediamo domani stessa ora stessa rete grazie